Condizione delle carceri, la situazione in Campania. E' questo il titolo del convegno organizzato dal Movimento Radicali Italiani, unitamente all'Associazione Giovani Giuristi Vesuviani e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, presso la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. La tavola rotonda è stata preceduta da una breve visita dell'Istituto. Sulla questione abbiamo ascoltato il parere di Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, capo della delegazione visitante le carceri campane, ed Enrico Farina, capo dell'area giuridico-pedagogica dell'Istituto di Sant'Angelo dei Lombardi. Abbiamo fatto diverse visite ispettive in quasi tutti gli istituti della Regione Campania. Per me è stata la prima volta, per me e i miei colleghi abbiamo fatto tappa a Sant'Angelo. Questo istituto ci è molto piaciuto perché lo riteniamo in perfetta linea con quello che prevede l'articolo 27 della Costituzione. Direi che è una delle poche eccellenze nel panorama nazionale. Si parla sempre di bollate, ma in realtà secondo me Sant'Angelo lo supera di gran lunga. Oggi ospitiamo il gruppo dei Radicali, la delegazione nazionale, perché hanno avuto modo di visitare diversi istituti della nostra penisola e hanno deciso di prestare attenzione alla nostra realtà penitenziaria. Questo ovviamente ci dà un ulteriore risconto rispetto a quello che è una percezione che l'esterno ha, soprattutto anche una corrente politica molto critica rispetto a quello che è il lavoro che viene fatto in ambito penitenziario. Quindi siamo particolarmente contenti di questa cosa perché comunque viene fatto da un occhio attento.